Il più cordiale buon giovedì da Maria Bettrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie positivo. L'istituto comprensivo Ruggero, terzo circolo di Caserta per il primo ciclo e l'ITIS Giordani per il secondo, sono i vincitori del premio scuola digitale provinciale giunto alla terza edizione. La manifestazione si è svolta su piattaforma Teams, scuola polo organizzatrice dell'evento in terra di lavoro anche per quest'anno è stata l'ITIS Giordani di Caserta, diretto dalla preside Antonella Serpico. La fase regionale è programmata per il 28 maggio prossimo. Sono firmate da Francesco Martucci, miglior pizzaiolo d'Italia 2020 con il locale in Masanielli a Caserta, le pizze del Sofia Loren Original Italian Food, primo ristorante del centro di Firenze, di una catena dedicata alla famosa attrice napoletana con la pizza protagonista del menù. Riaprono da sabato 1 maggio gli appartamenti reali della Regia di Caserta. Dopo il Parco Reale, il Giordino Inglese, già accessibili da lunedì scorso, il museo è pronto ad accogliere i suoi visitatori anche al piano nobile di Palazzo Reale. Puntata ricca di ospiti, quella odierna di goccia a goccia, il format di Radio Prima Rete dedicato al mondo delle associazioni del volontariato, ma anche un faro puntato su ciò che accade in città. Si comincia dunque alle 18.30 sulle frequenze dei 95 MHz di Radio Prima Rete oppure on streaming su www.radioprimarete.it. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un forte abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie positive di OndaWebTV.it